E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche oggi anche di sabato andiamo insieme a fare un po' di analisi tecnica andiamo a vedere quello che sta accadendo ai mercati finanziari in particolar modo ai mercati delle criptovalute perché Bitcoin si sta divertendo un po' sempre con questo movimento sideways che porta con sé un po' di volatilità e dobbiamo stare attenti a questa se andiamo a operare nei mercati ma come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qua sotto mi mettete davvero tanto se vi fa piacere ricevere questi contenuti ricordatevi appunto di lasciarlo e iscrivetevi al canale col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati è l'unico modo per arrivare a voi in tempo questa mattina ho fatto per voi visto che me l'avete chiesto in tanti una piccola guida abbastanza compressa ma spero che i concetti siano arrivati sulle ocean di Polkadot e Kusama quindi andatevela a vedere perché secondo me va a chiarire un po' di dubbi che si possono creare su questa tipologia appunto di operatività quindi spero che il contenuto vi possa essere di interesse e partiamo da Bitcoin partiamo da Bitcoin perché in realtà nella notte abbiamo avuto una ripresa del mercato anche se ripresa del mercato è una parola grossa insomma siamo andati a ondeggiare in questa zona qua abbiamo ritestato per 4 candele consecutive i 49.6 che si sono dimostrati un buon supporto e siamo andati appunto ad avere una leg up leg up che poi ha trovato un dump alle ore 12 dove abbiamo avuto questa candela che ci ha riportato da 55 circa circa a 49.8 sufficiente a liquidare gli over leverage come sempre guardate i volumi ok io ci tengo sempre a farvi notare anche un po' i volumi perché i volumi sono davvero davvero bassi anche perché comunque ricordatevi che siamo all'interno del weekend siamo di sabato e domenica quindi la volatilità me l'aspetto abbastanza elevata se c'è perché appunto i volumi sono bassi quindi basta poco ok basta poco per andare a creare degli smottamenti sul mercato e quindi basta poco anche per essere liquidati quindi io sto operando si opera se c'è cognizione di causa però attenzione a non esagerare perché può andarvi bene ma può anche essere rischioso no? quando succedono questi volumi a livello un attimino daily volevo farvi vedere dove siamo siamo con una candela di oggi che è molto molto significativa per come si sta formando ora vedremo un po' quello che sarà le chiusure però guardate la candela di ieri e la candela di oggi la candela di ieri è una candela che ha un'escursione veramente molto ampia perché va dai 48.3 ai 51 ok quindi abbiamo una candela di un la misuriamo tanto per capire ok di un buon 5% che non è poco e la candela di oggi si sta formando doji quindi l'indecisione con corpo contenuto all'interno della candela precedente cosa significa? significa che in realtà la lotta è ancora molto elevata tra bears e bulls i bulls hanno messo direi la testa avanti andando a settare comunque un ai precedente più alto del precedente che era in questa zona qua dei 55 siamo andati a ritestare addirittura i 51 ok quindi siamo andati a mettere di nuovo la testa avanti però dobbiamo stare attenti perché in questa zona qua che vi ho segnalato già da parecchio parecchio tempo è una zona di attenzione perché è una zona dove comunque i bears possono attaccare dove l'offerta può attaccare e può diciamo respingere l'azione bull ok quindi qui va misurato un po' quello che è la consistenza della domanda ok la domanda si trova a un livello importante un livello che va gestito e che va cercato di essere rotto il prima possibile questo è fondamentale per la prosecuzione di breve periodo del trend ok se appunto non ce la facciamo la prima zona a questo punto di contatto potrebbe essere le medie mobili a 12 che si ferma sui 48 e 6 dopodiché abbiamo la 26 ma che va in corrispondenza fondamentalmente ai 46 e 5 che sono poi il supporto chiave al di sotto del quale troviamo i famosi 44 ok 44 che possono essere un supporto per poter proseguire quindi attenzione perché non è detto ok che per forza deve andare in un modo noi dobbiamo reagire ok al mercato quindi questo è il focus che io ci tengo sempre a darvi come idea la mia preoccupazione non è quella di prevedere il futuro ok ma di valutare le probabilità di accadimento di un determinato scenario e operare in tal senso questo è quello che vi premia su lungo periodo poi chi ha la sfera di cristallo buon per lui però sinceramente penso che sia anche molta fortuna se si va a prevedere ok bisogna capire com'è questo mercato questo mercato ha bisogno di tanta esperienza secondo me nell'osservarlo nel capire come si muove perché molto spesso se si vanno ad applicare alcune figure più spesso ve lo dico sempre non hanno poi particolare significatività bisogna sempre comprendere le dinamiche di questo mercato ecco quindi su bitcoin rimaniamo in una situazione comunque tranquilla ok siamo comunque in una fase bullish la domanda sta comunque continuando a mettere degli high più alti dei precedenti dei low più alti dei precedenti quindi il trend è confermato up la dominance corregge continua a correggere anche nella giornata di oggi addirittura è arrivata a toccare i 41 40,99, 41 adesso da 41,34 attenzione perché appunto la dominance sta segnalando molta forza per le altcoin io personalmente non vado a fare dei paragoni col 2017 da queste zone qui che tanto erano zone comunque legate sempre lo faccio vedere sul settimanale sempre sui 35 si esatto su i 36, 35 non vado a fare questi paragoni perché dovete capire è che dal 2017 al 2021 quasi 22 di acqua sotto i punti ne è passata il mercato è cambiato no una no due ma 100 volte ok quindi andare a fare i paragoni qua è andata così quindi diventerà così anche stavolta boh non lo so rischia secondo me di essere un po' azzardato un po' da sfera di cristallo poi ovviamente quando avremo dei segnali rilevanti a quel punto andremo a operare ovviamente ragazzi lungo il percorso take profits ok ma questo non è che lo scopriamo oggi ok così come quando eravamo qua per chi mi seguiva ok sul canale eravamo ancora in pochi oggi siamo sicuramente di più vi dicevo ragazzi va bene si sale si prende profitto mentre si sale si prende profitto mentre si scende si accumula quando c'è da accumulare c'è da vendere quando appunto si sale quindi non per forza dobbiamo ok prevedere il top e il bottom dell'azione ma dobbiamo reagire di conseguenza quindi è importante appunto ragionare in quest'ottica qua Ethereum si mantiene molto forte guardate anche sul settimanale veramente stiamo andando a fare delle ottime move anche con consolidazione interessante Ethereum che sta comportando abbastanza bene un po' come sta facendo Bitcoin è andato a ritestare i 4000 è andato sopra i 4000 ora sta andando a lateralizzare ma ragazzi questa action è bullish in questo momento ok stessa cosa vale per le principali alt vediamo anche lo stesso Solana che sta andando a correggere leggermente ma si mantiene più che bullish anche sull'orario abbiamo veramente tanti nomi io non voglio andare avanti a lungo perché sabato voglio darvi più che altro un update generale però ragazzi mi raccomando sempre occhio al mercato non vi addormentate perché è lì che poi il mercato va a fare la propria move la propria action ragazzi mi fermo spero che questo contenuto vi sia stato utile vi invito anche a vedere i video di stamattina perché spero anche quello che possa aiutarvi come sempre vi invito a share un bel mi piace quando questi contenuti vi fossero utili e interessanti iscrivetevi al canale con il click sulla campanella per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo appunto ah guardate tutti i ref in descrizione anche Beatsgap che è il bot che sta performando veramente tanto tanto bene se vi registrate col mio ref avete 14 giorni di prova gratuita del piano pro anche Bingbon ottimo exchange che sto utilizzando e ragazzi noi ci aggiorniamo presto con un prossimo update ciao a tutti ragazzi ciao a tutti